Ho 76 anni e ho un problema anch'io di diventere piuttosto prominente, forse dovuto a due gravidanze, una delle quali con asportazioni di ciste ovariche al terzo mese, ho una corporatura piuttosto lungilinea, non grassa, ma questa pancia è veramente eccessiva, molti se non fosse perché vedono che non ho più l'età mi chiedono se aspetto un bambino, mi crea molto disagio e fastidio, è possibile fare qualcosa? Mi può raccontare brevemente tutto quello che bisogna fare? Grazie, buongiorno. La signora è un po' avanti con l'età, nel senso che questo non è un problema che c'ha da due giorni, 76 anni è un'età da tenere in conto e iniziamo a valutare rischi, benefici e questo è. Prima cosa da fare? Ecografia della parete addominale che è diversa dall'ecografia dell'addome, l'ecografia dell'addome arriva qualcuno da me dicendo l'ho fatta l'ecografia e vedi il fegato, i reni, la orta discendente che non ce ne frega niente perché il chirurgo plastico è superficiale. Secondo punto di questa vicenda, quindi, ecografia della parete addominale, secondo punto è la visita dal chirurgo plastico per valutare questa cosa. In realtà, in alcuni casi di gonfiore, viene molto spesso in aiuto il gastroenterologo, perché proprio l'altro giorno parlavo con il mio collega gastroenterologo dicendo questi gonfiore addominali, sono dovuti alla flora batterica della... In molta parte può essere vero? Possono essere davvero... Lui, appunto, pazienti, abbiamo parlato contestualmente, racconto un caso mio, personale, di una signora che ha una storia sua, che è una storia anche di vizi, tra virgolette, e cose di questo genere, quindi è una signora un po' particolare, comunque ha le gambettine strettine, strettine, abbiamo già fatto riposuzione, non ho mai cercato interventi grandi, abbiamo sistemato... Quindi lei non ha della ciccia del tessuto riposo, ma ha proprio questa pancia che butta in fuori e come da contenuto addominale importante, si chiama grasso viscerale. E allora in questo caso non posso intervenire io, no? E quindi sostanzialmente il gastroenterologo dice effettivamente possiamo dare dei farmaci, dei fermenti, comunque che possono aiutare a migliorare questa flora batterica sgonfiando un po' la paziente. La nutrizionista può essere utile perché anche lì i cibi che gonfiano, no? Non so, faccio un esempio, la pizza, no? Che a me piace tantissimo, però ogni tanto mangi la pizza e gonfi un po' di più l'addome. durerà 3-4 ore per la carità, però questo è una cosa che alcune pazienti sono molto attenti a questa cosa, no? E quindi in realtà è più un discorso generale, non si riesce... E secondo me è anche bello questo perché fa anche dimostrare come comunque non c'è la soluzione, devi per forza farti operare, devi comunque fare... Se rimette l'immagine faccio vedere anche una cosa molto divertente di quella immagine che ha fatto vedere. Perché guardavo l'immagine e dicevo questo. Una cosa che succede è che molte persone, poi arrivano delle persone che arrivano già dicendo c'è la diassale, c'è l'ernia, molte persone, come questa ragazza qua, c'ha l'ernia e vedete l'ombelico come è bello pienotto, ok? Quello è un'ernia ombelicale, ok? E quindi sostanzialmente la signora manco lo sa di avere quest'ernietto ombelicale, no? E quindi come è venuta la signora di ieri che mi chiedeva di migliorare, qualche giorno fa che mi chiedeva di migliorare l'addome, e gli ho detto ma lei lo sa che ha un'ernia ombelicale. E quindi sostanzialmente la visita serve a quello, no? E se vogliamo dire una cosa anche in generale, che qualcuno di nuovo da casa, io me lo ricordo da bambino, che mi aveva colpito questa cosa, no? Che quando c'era tutta la mia famiglia, qualcuno andava dal dottore e diceva, sono andato dal dottore, no? Diceva in piemontese, no? Non mi ha neanche visitato, perché il visitare 30-40 anni fa era mettere le mani addosso, ok? A oggi questa cosa è cambiata, perché molto spesso a uno non gli vengono messe le mani addosso, e però è una visita, capito? Quindi capito il cambiamento che c'è. Invece il concetto della visita è proprio questo, una valutazione globale di tutta la, in questo momento, la visita moderna è questa qua, magari alcune volte non mettiamo le mani addosso, però diamo l'attenzione al paziente per valutare tutta una serie di cose che possono essere importanti per l'addome della signora che ha mandato il vocale.